In realtà non esiste quello che gli inglesi utilizzano come parola one size fits all, in realtà esistono soluzioni diverse per esigenze diverse. Intel da circa un anno ha introdotto una nuova tecnologia, ti faccio vedere qui, si vede, si chiama Intel Optane Persistent Memory, ormai siamo arrivati già alla seconda generazione ed è un prodotto questo nato per il mondo data center. Sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta di moduli di memoria uguali alle RAM DDR4 che vengono inseriti nei computer, ma anziché usare una DRAM utilizza un modulo di memoria persistente Optane. Il beneficio immediato è quello di poter indirizzare una grande quantità di memoria per ogni socket, però memoria che non è volatile ma permanente.